Marco Traniello è grifato Full Tilt e non è proprio uno degli italiani sponsorizzati Full Tilt, è qualcosa di più, è un italiano che si è trasferito qua. Sì, ho cominciato a giocare a poker in America e adesso anche in Italia. Ecco, questa scelta adesso di tornare un po' all'origine, no? Perché tu sei italianissimo. Però da quanti anni che sei qua? Sono dieci anni, dieci anni è però uno dei miei migliori amici, Luca, Pagano, organizza quasi tutti i tornei in Italia e devo onorarlo. Allora, è l'amore che ti ha portato qua, ti sei sposato con Jennifer Arma, una giocatrice professionista e ti ha aiutato anche a diventare un buon giocatore. In genere si dice sempre che è il contrario, che sanno i uomini che siano a giocare a carte alle donne invece? Caso mio, io ho imparato tutti i tardi. Allora, al di là di questo, hai imparato perché poi una grande azienda ha deciso di affiancarti. Anche in questa avventura che stai vivendo, direi, a 360 gradi perché stai facendo un po' di tutto. Quest'anno ho giocato più eventi possibili e sono diventato l'italiano con più cashes e final table alla World Series of Poker. C'erano 27, adesso quest'anno 5 e un final table. Quindi i risultati sono buoni. E mi pare che proprio come italiani stiamo dimostrando che il poker lo stiamo capendo. Tu da ormai italo americano come lo annusi, come lo percepisci? Annuso, abbiamo creato una squadra italiana che giocherà contro tutti gli altri americani. Ci sono tipo 18-19 paesi del quale sono il capitano. Luca è uno dei membri, Flaminio è uno dei membri, D'Arietto. E sono sicuro che abbiamo tutte le armi per scontrarci con gli altri. Benissimo. Direi che i nomi già che hai fatto non sono male. E a questo punto tu hai già in mente di partecipare a qualche altro evento? In giornata, in serata, domani? Stai fermo, ti rilassi un po'? Domani c'è Pot Limit Omaha, gioco quello. Stasera un po' di relax. Sì, è il secondo. Basta. Sì, è il secondo.